Curiosità cartellifere seconda puntata, parliamo di gemellaggi, il Comune di Teramo è gemellato con un gran numero di città, la prima è Gorzov, poi c'è Memmingen, lo sapete tutti, insomma è un gemellaggio antico, Richon Lezion dall'Israele, uno dei quartieri vicini a Tel Aviv, Praga 7, un quartiere di Praga e un altro dei gemellaggi, quello di Strovolos, o Strovolos ecco, è invece l'ultimo in ordine di tempo, ma Ivangrad che fine ha fatto? Una volta eravamo gemellati anche con Ivangrad, ora va bene che le cose cambiano, ma quando un gemellaggio finisce, visto che esaltiamo quando cominciano, forse sarebbe anche il caso di dirlo, Ivangrad chi l'ha visto? Via l'Italia, gemellata!